Nel chiostro di Santa Chiara a Mola di Bari siamo arrivati dunque all'agenda degli spettacoli, questa sera alle 21.15 la prima del Festival Oriente Occidente, un altro nodo della rete Orfeo Futuro in programma Endel Celebration con il celebre contralto Sonia Prina e l'orchestra barocca Santa Teresa dei Maschi diretta da Sabino Manzo.